Salve a tutti amici pescatori e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi andremo a parlare di fili, come utilizzarli, quando preferirli, che dimensioni e in che tecniche dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 100 like per altri tutorial del genere mi raccomando scrivete qua sotto cosa vi piacerebbe sapere in modo da potervelo portare dunque non fate quelli del bercino corto e mandate questo video a tutti i vostri amici pescatori che sono in difficoltà con la scelta del filo tra l'altro ragazzi qua sotto in descrizione potete trovare dei prodotti che vi ho linkato da Amazon e troverete anche i fili che vi faccio vedere in questo video dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla allora ragazzi oggi andiamo a parlare di trecciato, nylon e fluorocarbon che sono i tre tipi principali di filo che si vanno a mettere sul mulinello sicuramente negli ultimi anni abbiamo visto una grossa risalita del trecciato data dal fatto che con nuove tecnologie si riescono a ottenere trecciati migliori più sottili, più performanti e che vanno a coprire un sacco di situazioni secondo posto probabilmente troviamo il nylon per la sua applicazione nel bus fishing che praticamente prende tutto il bus fishing e infine abbiamo il nylon che comunque è un filo che ormai è rimasto di nicchia lo troviamo in parte nella pesca alla trota in torrente però oramai viene affiancato dal trecciato dunque quali sono le principali differenze? allora qua ho tre fili un nylon, un fluorocarbon e un trecciato li ho presi di misure molto simili qua abbiamo un 20 un 23, un 24 praticamente e un 10 la parte simile è che vengono utilizzati praticamente per le stesse tecniche in base ai diametri ovvero che la pesca che ci faccio con questa è la pesca che ci faccio con questi due comunque abbiamo il trecciato che è uno 0,10 quindi molto più sottile molto più lanciabile ci permette comunque di fare lanci lunghi avere una sensibilità maggiore perché l'allungamento è praticamente zero in più taglia meglio l'acqua perché è più sottile quindi le esche riescono a affondare meglio si riesce a pescare meglio in corrente perché taglia di più l'acqua cioè voi immaginatevi un 0,10 mm e un 20 che è praticamente il doppio quindi un trecciato taglia l'acqua praticamente il doppio rispetto a un pari al nylon o fluorocarbon e qua già sono vari punti a vantaggio inoltre hanno un carico molto elevato i trecciati quindi ci permette quindi praticamente il filo perfetto perché alto carico di rottura facile da lanciare taglia bene l'acqua ed è molto più sensibile per esempio lanciamo un'esca a tot metri il trecciato avrà una sensibilità molto maggiore di come muove l'esca se si attacca un'alghetta se viene toccato da un pesce leggermente rispetto a fluoro e nylon quindi parliamo un po' di fluoro e nylon entrambi sono un monofilamento a differenza del trecciato che può essere 4, 8, 12, 9 oramai il trecciato c'è una grande varietà il nylon in genere ha un più alto carico di rottura però in genere il nylon è quello col carico di rottura maggiore in più non ha memoria in genere ovvero che se viene arrotolato torna al suo stato iniziale difetto si allunga molto guardate qua adesso è in bobina e quindi si vede ancora di più perché comunque viene tirato anche le altre fribie però si può capire guardate immaginate 40 metri di filostesi invece se cioè la treccia è la treccia mi taglio le dita invece se prendo il fluoro è ha una resistenza molto più alta all'abrasione rispetto al nylon e ovviamente a differenza del trecciato è meno visibile in acqua e anche rispetto al nylon però ha meno carico di rottura il nylon è più morbido il fluoro è più rigido c'è un po' di allungamento ma non è come quello del nylon quindi quale scegliere se si parla di light spinning ultra light o comunque magari si fa il light rock fishing soprattutto e si magari si fa un po' di fast fishing un po' di pesca alla trota in torrente comunque un misto o principalmente light barra ultra light sicuramente il trecciato se si fa magari trota proprio per far trota la ci può essere la c'è più da scegliere su quale ci si trova meglio c'è chi si trova meglio con il nylon perché è più morbido la tutisce meglio e si slama meno c'è chi preferisce avere il trecciato per un migliore sensibilità trecciato si usa anche per pesca alluccio in particolare dalle dimensioni del 0 25 0 35 si usa per la pesca al basso una delle poche tecniche è la pesca rana dopo ci possono essere altre applicazioni però in Italia viene usata pochissimo con diamiti 0 20 0 30 altre applicazioni tutte le pesche in mare praticamente tutto lo spinning in mare branzino serra leccia light shore jigging shore jigging light rock fishing tutte le pesche a spinning in mare perché ci permette di arrivare molto distante cosa che in mare fa molto la differenza la distanza di lancio sia quando si parla di light rock fishing quindi ag game che quindi abbiamo esche piccole e magari diversi metri di lancio sia quando parliamo di shore jigging che è molto importante lanciare il nostro jig lontano abbiamo canne lunghe fatte apposta per lanciare lontano ci serve anche l'attrezzo giusto light game in acqua dolce e acqua salata eventualmente pesca la trota pesca del luccio o comunque anche pesca degli altri predatori tipo il perca l'aspio o cos'altro mi viene in mente dove i cavetano comunque lo tengo sul light perché si fa con canne da 15-20 grammi massimo ecco e anche mi stavo dimenticando la pesca siluro tra le pesche pesanti in acqua dolce poi per tutte le pesche in mare come detto prima il nylon oramai viene utilizzato solo nella pesca la trota in torrente e ad esempio con i deep crank nel bus fishing se si pesca a crank e si pesca magari non so a chatter anche è già più indicato il fluorocarbon perché ha un pochino di rigida in più e trasmette meglio quindi trota e dinamitri che possono variare in base a quello che si va a fare però già se si parla di marmorata si va già di treccia e quindi si il nylon oramai sta pian piano scomparendo c'è ancora molta gente che lo usa però rispetto ad altro lo si va a minimizzare poi vabbè non ho detto prima però ovviamente col trecciato ci va anche il terminale in fluorocarbon che anche là può variare diametro e lunghezza infine abbiamo il fluorocarbon il fluorocarbon che in pratica viene utilizzato quasi solo dal bus fishing forse c'è qualcuno che lo utilizza in altre situazioni per motivi particolari però se dovete iniziare a pescare il fluorocarbon nelle canne da bus potete vedere tutta la parte retro che è solo fluorocarbon la dovete anche vedere quindi in base al filo che dovete prendere anche in base alla sospettosità del pesce ma non posso dirvi che diametro prendere dunque grazie ragazzi per aver visto questo video spero vi sia piaciuto se ci sono altre domande fatemi qui sotto che magari se c'è molto altro da spiegare vi faccio un video un pochino più completo questa è una guida per chi non sa cosa montare sulle proprie canne e perché vuole iniziare dunque ragazzi mi raccomando fate un passo in descrizione lasciate like un dito video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per questo video è tutto ciao a tutti ciao a tutti